ecco questo il primo pacchetto è un leggings del brand Zasua che è questo brand russo che fa dei leggings veramente belli fa veramente fa un sacco di cose fa tantissime cose però la cosa che incuriosisce di più è sono i leggings e adesso vi faccio vedere ecco questo è il codice sconto che mi ha lasciato il brand per usare magari in altre capi in altre cose make sport more sexy questo penso sia stavo dicendo la parte davanti è uguale solo che il dietro c'è la parte la forma delle chiappe e davanti c'è la forma del muscolo davanti quindi comunque è molto 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 bello molto bello e deve essere anche molto comodo niente appena lo indosserò vi farò le mie recensioni sono molto soddisfatta almeno nel nel design bello ok ragazzi l'ho aperto era piegato e questo valore mi piace tantissimo perché non so se si bene vede bene in camera ma è un verde bottiglia verde abbastanza scuro verde smeraldo in realtà poi ha un tessuto abbastanza dovrebbe essere la forma delle entrambe le chiappe se così dire e niente la parte davanti penso sia uguale sì esatto c'è il verde c'è il blu c'è il rosa se non ricordo ma ovviamente la cambia questa zona a parte questa qua a me piace il verde quindi come si può intuire e vedere la ragazzi non ho saputo resistere ad indossarlo infatti dopo vado in palestra quindi sono già pronta e non potevo non indossarlo ovviamente e recensirlo come prima cosa è promosso già il fatto che si indossa veramente bene ed è veramente comodo il fatto della curiosità qui davanti della parte della mutanda ma non è una mutanda è proprio tessuto qua e si nota che della parte davanti perché va proprio a come se fosse il muscolo vedete invece che la parte di dietro si capisce che la parte di dietro perché c'è la forma delle due giappe insomma del booty è molto comodo vedete ci puoi fare tutti i tipi di movimento eccetera ci sono anche di tanti colori di altri colori che ci sono anche di tanti colori di altri colori che si sono anche di tanti colori di altri colori che si è molto più importante